Spazio Fiera SRL in collaborazione con l'amministrazione comunale di Castrovillari organizza Expo Calabria 2018 A Castrovillari, località Villaggio Scolastico, dal 23 giugno al 1 luglio 2018 Orario d'apertura tutti i giorni dalle 16 alle 22, sabato e domenica dalle 10.30 alle 22, ingresso gratuito Expo Calabria 2018 a Castrovillari per informazioni 335 1816 423 Expo Calabria, vi aspettiamo!